Vi presento il lavoro che abbiamo creato. Abbiamo pensato di fornirvi una guida molto semplice e intuitiva su alcune tematiche importanti e curiosità riguardo alla pandemia in atto. Prima di tutto è molto importante aver chiaro la differenza tra Covid-19 e SARS-CoV-2. Covid-19 è il nome della malattia causata dal virus SARS-CoV-2, mentre SARS-CoV-2 è il nome che è stato attribuito al coronavirus che causa la malattia. È stato chiamato SARS-CoV-2 poiché è molto simile al virus che causò la SARS nel 2002, che venne chiamato SARS-CoV. Un'altra differenza molto importante da aver chiaro in mente è la differenza tra Covid-19 e influenza stagionale. Le due malattie sono state spesso confuse tra di loro perché hanno una presentazione clinica molto simile e hanno la stessa modalità di trasmissione. Tuttavia hanno delle differenze molto importanti, la principale è che una percentuale notevole di pazienti con Covid-19 necessita di cure intensive. Questo dato è molto importante perché ci fa comprendere l'impatto che avrebbe la pandemia se non fosse controllata sul nostro sistema sanitario. Scendiamo un attimo più nel dettaglio. Ma che cos'è SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 è uno dei sette coronavirus che fino adesso sono stati individuati nell'essere umano. In termini tecnici definiamo la malattia Covid-19 come una zoonosi. Ma che cosa significa questo termine? Significa una malattia che è stata trasmessa dagli animali all'uomo per poi diventare una malattia a trasmissione interumana. Significa che noi possiamo contagiarci anche in assenza dell'animale. Riguardo questo tema abbiamo sicuramente sentito dire il virus ha fatto il salto di specie. Ma in termini pratici cosa significa? I virus, come gli altri microrganismi, hanno sempre convissuto con altri esseri viventi. Il problema nasce quando un microrganismo che ha sempre convissuto con un essere vivente si trova a stretto contatto con un altro essere vivente di una specie differente. In queste circostanze può capitare che il virus si propaghi all'interno della seconda specie causando una malattia. In gergo lo chiamiamo spillover. È lecito chiedersi perché proprio a noi è già capitato? La risposta è sì. Le malattie di origine zoonotica sono sempre esistite nella storia umana. Tuttavia alcuni comportamenti caratteristici della nostra società favoriscono maggiormente l'insorgenza di tali malattie. Quindi noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare per arginare l'avanzata della pandemia? L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci suggerisce sei semplici regole da adottare per favorire l'arginamento della malattia. Lavarsi le mani frequentemente, mantenere le distanze, non toccarsi occhi naso bocca, coprirsi la bocca con il naso dopo gli starnuti o i colpi di tosse, possibilmente con il gomito, gettare subito i fazzoletti appena dopo l'utilizzo e ricercare il consulto medico tramite numeri appropriati appena si hanno sintomi respiratori. Giunti alla fine della nostra breve guida, vi viene spontaneo chiedersi ma alla fine di tutto questo ricapiterà di nuovo? Ce ne saranno altri in futuro? Beh, come aveva pronunciato David Quammen nel suo libro e come è di comune accordo tra molti esperti del settore di salute pubblica, la risposta è probabilmente sì, ricapiterà di nuovo e il motivo è da ricondurre alle caratteristiche, alle organizzazioni della società moderna. Tuttavia, un tratto che ci caratterizza come esseri umani è la nostra fortissima capacità di adattamento. Quindi più studieremo il nostro amico e più saremo in grado di rispondere in futuro.